metro. Ha trovato qui questa zona di palude, l'ha abitato perfetto. Di fronte a noi abbiamo la paratoia di Valdaro invece che è una struttura di fondamentale importanza per la sopravvivenza della nostra città. Infatti quando il po' è in piena il suo livello può aumentare anche di 8 o 9 metri rispetto al normale. In questi casi per evitare che l'acqua arrivi ad allagare il centro storico di Mantua la paratoia viene chiusa. Vedete anche la conca di Valdaro che permette il collegamento diretto della zona di palude nella quale ci troviamo con il fissero tartaro Canal Bianco che è un canale artificiale che scorre parallelo al Bo fino a Venezia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.